Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E' gratis mio per quattro pastiglie di merda! La produzione dell'omonima bevanda. Nel 1940 Max Keit, il capo della filiale tedesca di Coca-Cola, decise di creare una bevanda utilizzando solo gli ingredienti disponibili nel paese, come siero di latte e residui di mela. Il nome Fanta fu ispirato al termine tedesco Fantasie, che significa immaginazione o fantasia, proprio per sottolineare l'ingegnosità e la creatività usata per la sua creazione. La Fanta originale ha avuto un enorme successo in Germania, fino alla fine della guerra. Aspetta un attimo che mi sa che non mi matcha con il rank. Fino alla fine della guerra. Capisci che si faceva fatica? Merda, ho tolto il logo di Mr. Day. Ho sbagliato? No, no, ma io ho creduto tanti... Ma guardate che è giusto, cioè, quello che dicono. Merda, ho tolto il coso di Mr. Day. Dove minchia è finito? Ok, banner Mr. Day. Edza. Eh, sì, figa, più grande. Mr. Day lo mettiamo là. Morca cazzo. Ah 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 VIP. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Grazie! Marco! Per aver portato 5 mozze sulla mia bagnarola! Ah 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 ah! latest da dentro. scena la capricciante in acqua chill in acqua io non riesco ragazzi vi giuro non è non puoi non c'è non puoi non è impossibile del pass battaglia ciao marco macchiella ciao caro benvenuto la normale in bottiglietta e la versione senza zuccheri invece in lattina tanta tanta roba nome che non ha neanche bisogno ovviamente di presentazioni la si conosce alla grande e tra l'altro ovviamente le informazioni su ognuna di queste bevande sono ovviamente 100% arance italiane ci mancherebbe che non fosse così e abbiamo quella classica con zero zuccheri aggiunti classico sapore della fanta meno zuccheri meno calorie la arancia rossa senza zuccheri aggiunti anche questo con succo di arance rosse al 100% di sicilia igp mica pizza fichi e banane e la lì parca puttana troia dai raga dai raga dai raga non mi ha messo giù il porco di farò non mi ha messo giù il porco di farò cazzo non gliene fregava assolutamente nulla ragazzi il pass sembra che costi 950 raga oh mio dio stiamo per prendere 10 mila spettatori porca troia merda merda devastante grazie ragazzi grazie ragazzi porca troia credo che ho visto e che cazzo faccio no 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 ma non ci dovrebbero essere quelle robe che rifano un po' ok ma chi è che sta faiutando no no ma li sto li sto uccidendo dalla safe che scena è un ripillante c'è zanax e klinger che sono sopra un carrello tutti e due col bush faccia un bel p90 merda vai p90 il no build non lo prendo neanche un minuto 38 per tornare a spiagge snob saliamo dai vichinghi saliamo dai vichinghi può essere buona olivander le trappole porca troia le trappole merda o il mecca chiamatelo come vi pare confermato il ritorno del bruto signori è confermato con questi codici eh sì tornerà buongiorno matti privitero adesso tutti che vogliono il merluzzo al 50% di sconto porca miseria buongiorno Zullo benvenuto buongiorno al Kaleui merda vi faccio vedere un'immagine per i più vecchi per i più oggi in assoluto ragazzi i bunker sono ancora chiusi applaudiamo questi bunker sono chiusi dalla season 4 del capitolo no dalla season 4 punto senza neanche i capitoli i bunker sono ancora chiusi sì 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 non li aprono sono passati sei anni sono ancora chiusi mamma ho perso la Fanta gli ak fantasmi già già gli ak fantasmi era il signore delle Fanta tre uomini e una Fanta c'era una famosa serie che hanno fatto qualche anno fa che si chiamava il trono di Fanta non so se lo conoscete non aprite quella Fanta potrebbe essere anche potrebbe essere anche fatto così a tema Halloween la notte dell'Elefante vai arriva un'altra qui dal Brasil dai raga dai raga niente di che tra l'altro io ho tutte le cazzo di Legacy tutta la crew pack sempre presi allora buongiorno Marco Mattiella buongiorno abbiamo aspetta aspetta attorno aspetta aspetta attorno dove eravamo prima la prendo ero dover c'erano io che per questo vi chiedo aiuto perché io non vedo le cose è per questo che vi chiedo aiuto raga perché non vedo le cose sulla colonna oh piano 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 ragazzi dove la vedete la lattina di coca la bottiglietta di coca cola raga grazie a tutti i